6, 6, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1 Che grandi che siete, eh! Vuoi un chico o avvi? No? Super! Bravo! Ancora. Ancora? Ancora fame? No pasta. Ancora? Ancora sul tuo zaino? Sembra che c'è. Però mastica bene, guarda che bocca piena che hai. No, io prendo. Tu prendi. Ok? Pepe, hai un tappo. Hai un tappo. Hai un tappo? Vuoi un tappo sui capelli? Sì? No. Ok. È così. Va bene, va bene. Io ci puoi. Va bene, capito? Sì. Tieni un attimo il telefono, Sashio. Ciao. Ciao. Grazie, Sashio. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. vuoi che te le apra? puoi aprire le pacchettine aiuti? grande, che forte, hai visto che forte Vicky? fai ciao? ciao? ciao Vicky? ciao, ciao Sesha, così per noi ciao baby, fai ciao ciao